Amici sportivi, un saluto da Fabrizio Agostini e benvenuti al Pala Bianchini di Latina. Settima giornata del massimo campionato di calcio a 5. In campo ci sono Axed Group Latina e Orange Futsal Asti Calcio a 5. Si parte. Il primo pallone è giocato proprio dagli ospiti. Si stanno prendendo le misure. Poi Borca Blanco, il destro, la parata da parte di Casazza. E allora calcio d'angolo. Pallone fuori e Pala in rete. Duarte sblocca. 1-0 Asti. Avellino va sul fondo. Avellino mette in mezzo sotto misura Blanco. Era importante il suo apporto. Poi grande rischio per la difesa nera azzurra. Per il numero di crema. Sinistro, palla di un soffio a lato. Prova a servire Battistoni. Nulla da fare. Torna avanti pericolosamente l'Asti. Il palo di De Oliveira. Arnaldo. Arnaldo. Pallone per Battistoni. Il gran gol di Battistoni. Che rete. Che pareggio per l'Axed Group. E allora Maina. Può avanzare Maina. Maina. Il sinistro. Palla fuori. Rosati ruba però il pallone. Ancora l'Asti con De Oliveira. Patrizzi dice no su Maciado. Poi Crema. Diagonale vincente. Arriva il 2-1 dell'Asti. Asti con Crema. Prova la conclusione. La respinta di Patrizzi. Poi il pallone che rimane lì. Pallone però che non arriva Maina. Allora Nora. Può andar via Nora. 3-1. Nora. Contropiede. E gol. Non arriva questo pallone. Ma c'è Battistoni. Battistoni per Barca Blanco. E arriva il secondo gol per Illatina. Barca Blanco. 3-2. Va via Corso. Sull'out di destra. Buona azione di Corso. L'aria è spinta. Poi Casazza. La parata è Maina. Manca il tap-in. Pallone per Battistoni. Pericoloso. Arriva Torras. Finisce il tempo sulla parata di Patrizzi. Duarte dentro per De Oliveira. Al destro potente Patrizzi. Due volte. E spinta da parte di Casazza. Poi il contropiede. De Luca. De Luca. Occasionissima fallita. Maciado. Proprio per Crema. Pallone con i contagiri per Zanella. Patrizzi. La parata. Maina. Prova lui. Da lontanissimo. Battistoni. Arnaldo. Fermato. De Oliveira. Paratona di Patrizzi. Arnaldo. Pallone per Corso. Sinistro. Che palo per Corso. Ancora Corso. Contropiede pericoloso da parte dell'Orange Futsal. Poi De Oliveira. Si esalta Patrizzi. Calcio d'angolo. Arnaldo. Pallone porca Blanco. Battistoni. Arriva al tre pari. Firmato. Battistoni. Pallone per Nora. Breck però di latina con Maina che conquista palla. Maina. Pallone per Battistoni. Battistoni si accentra. Battistoni. Di sinistra. Palla in rete. Palla in rete. Mette la testa avanti. La squadra nera azzurra. Magia di Battistoni in contropiede. Ancora per Duarte che gestisce. Poi lo stesso Zanella. Pallone dentro. Patrizzi. Zanella manda alto. Pallone per la rovesciata. E poi il tap-in di Zanella. Perché arriva la sirena. Termina la sfida. Quattro pari tra Axed Group Latina e Orange Futsal. Asti calcio a cinque. Aprecream. Aprecream.